al kimono oltre il ginocchio? al kimono? troppo lungo si muove troppo guarda come si si è caduto i passi ce l'ho mandato a punto ai passi ce l'ho mandato a punto tu non lo facciamo facciamo ma qual è il mio nel senso ma l'ho ammigo e dunque, non c'è più mai i baffati dovrei venire a in il 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 Non ascolta il suo padre Mamma mia Ma che vero, la seconda volta Gli ha tolto l'atterramento perché ha preso la tua mano L'hai filmato? L'hai filmato? Si vede Madonna Gli ha dato la sensazione per questo attunamento e gli ha tolto l'atterramento Ma che cosa aveva fatto? E' un'altra cosa la pagò la pagò 10 pg si deve chiedere in Toscana no ah è proprio cambiato vuole la nuova il signore diamo la meca senti a passare il testo a nulla, a nulla, a nulla, perché un'era di un tipo l'altro è dell'altro. Musse diusse diusse. Musse diusse. Musse diusse. Musse diusse. Musse diusse. Musse diusse. Opa ragazzi, usciamo. Musse diusse. Non avvitavo qui, no. Musse diusse. Musse diusse.